Il rimpasto voluto da Vladimir Putin all'interno della sua corte più ristretta segna una svolta importante nella politica dello czar ed un tentativo di effettuare un rinnovamento e un cambio di passo nelle politiche del Cremlino. Un cambiamento che riguarda non soltanto la guerra in Ucraina ma anche la postura complessiva della Russia nei confronti di quello che a Mosca chiamano l'Occidente collettivo. Lo czar, che ha appena ricevuto l'incoronazione da presidente per la quinta volta, sembra indicare la strada da seguire da qui ai prossimi anni in un mondo cambiato velocemente negli ultimi due anni a causa del conflitto in Ucraina e con una guerra che potrebbe durare ancora a lungo. Questo è il primo punto. La Russia è stata capace di superare l'ostacolo delle sanzioni occidentali grazie a due circostanze. Da un lato l'aiuto di paesi amici come la Cina e a triangolazioni commerciali che hanno consentito a Mosca di continuare ad avere gli approvvigionamenti di cui aveva bisogno in molti settori. Dall'altro una progressiva trasformazione dell'economia russa che dal 3% ha visto salire al 6,7% del PIL le sue spese militari, con una previsione di ulteriore crescita. La ricerca di una sostenibilità di questa situazione e una gestione più consapevole e professionale del cambiamento strutturale dell'economia russa sono alla base della scelta per la prima volta di un economista come Andrei Belusov nel ruolo di ministro della difesa. Probabilmente nello spostamento del fedelissimo Sergei Shoigu da ministro della difesa a segretario del Consiglio di sicurezza nazionale potrebbero aver contato anche gli errori compiuti, soprattutto all'inizio della guerra, nella campagna d'Ucraina, ma fondamentalmente Putin vuole l'assicurazione di una sostenibilità e sviluppo economico al servizio del settore militare del paese. Da questo deriva l'ipotesi condivisa da molti analisti che al Cremlino ci si prepari ad una guerra lunga o comunque ad una lunga contrapposizione con l'Occidente anche nel caso in cui, più in là, si decida di avviare un negoziato da un punto di forza che la Russia sta lentamente conquistando sul terreno in queste settimane. In questo senso va letta anche la promozione della famiglia Patrushev. Il padre Nicolai è stato nominato assistente del presidente, di fatto una sorta di braccio destro. Patrushev era segretario del Consiglio di sicurezza russo dal 2008, ma è storicamente uno degli uomini di cui Putin si fida di più ed è stato, fra l'altro, anche capo dei servizi segreti di Mosca. Il figlio Dmitri, ex ministro dell'agricoltura, è stato nominato vicepremiere ed è considerato uno degli uomini su cui Putin conta per la costruzione del futuro della Russia. In questo giro di cambiamento rimane al suo posto il ministro degli esteri, Lavrov, considerato uno dei pochi uomini del Cremlino in grado di poter ancora parlare con l'Occidente se e quando ci sarà l'occasione di intavolare una qualche forma di negoziato. Per il momento però la guerra va avanti e ad una guerra ancora lunga il Cremlino si prepara con un assetto ai vertici, ritenuto più adeguato a raggiungere quel difficile equilibrio della sostenibilità economica di un conflitto di questo tipo. Chi pensasse ad un passo di lato di Putin sbaglierebbe. Lo zar si prepara e aggiusta il tiro per poter andare avanti ancora molto a lungo.